Ho fatto un regalo alla città perché era previsto un ponte largo 4 metri, del costo di 650 mila euro. Io l'ho fatto largo 5 metri, bello, con 300 mila euro. Le scogliere, che sono costate 3 milioni di euro, può darsi che ci si poteva finire tutto il lavoro fino al porto senza lasciare quei due poveri bagnini disgraziati in mezzo all'acqua. Anche le strade, anche le infrastrutture sono oggetto di vostre critiche, di vostre considerazioni? Le strade di Fano non hanno il sottofondo, quindi è del tutto inutile far vedere che si asfaltano e qualcuno si è vantato di aver fatto 100 chilometri di asfalti, hanno speso 10 milioni, ma le strade sono in pessime condizioni. Manca il sottofondo perché è inutile fare un tappeto di 3 centimetri, un binder di 5-6 centimetri quando sotto c'è la terra. Non tiene, gli avvallamenti continueranno, bisogna fare per bene. Chiedete il vostro supporto per entrare in Consiglio Comunale e anche per altre tematiche che vi stanno a cuore? Specialmente per l'ospedale, lo hanno quasi decapitato, chirurgia non c'è neanche più se non la chirurgia in dei hospital, ortopedia non esiste più e quindi stanno tagliando dappertutto, poi dicono che non vogliono chiudere l'ospedale, così lo stanno chiudendo e la gente dovrebbe ribellarsi a questo. Siamo la terza città delle Marche, come fa la terza città delle Marche a rimanere senza ospedale? Purtroppo questa amministrazione, da questo punto di vista, non ha assolutamente fatto nulla per mantenere l'ospedale a Fano, sta andando tutto a Pesero. Perché darvi la preferenza in Consiglio Comunale? Io chiedo la preferenza perché so di aver fatto bene, se fossi stato al posto di questi avrei rimesso in moto un piano regolatore, invece ho saputo che hanno speso circa 300 mila euro per incarichi senza fare nulla. Io ho speso 30 o 40 mila euro a un ente pubblico, invece questi 300 mila euro a privati. E poi non hanno fatto praticamente nulla.